alberto siamo di nuovo insieme hai visto il meeting tra biden e putin sembra un po un tema da guerra fredda quando c'erano questi vertici sì sì l'uno l'uno c'ha le sanzioni con fronte dell'altro quell'altro gli fa gli attentati cibernetici gli attacchi cyber attacks ma io così ho l'impressione che per ammanzire un po il l'orsacchiotto russo biden gli abbia concesso questa passerella mondiale che riporta insomma che evoca i fasti dei tempi che furono l'unione sovietica e però alla fine biden viene al g7 alla nato e conclude con putin è incredibile la faccia che gli ha dato sì appunto è stato la trattato bene dal punto di vista diplomatico nell'alveo delle buone maniere di relazioni internazionali è stato un trattamento royal poi però se andiamo a vedere di quello andiamo a vedere i temi di cui si è parlato non si è concluso nulla è stata veramente solo un'occasione per raccontarsi le storielli o quantomeno per piantare le bandierine hanno deciso di continuare nel trattato nel sua trattativa dei degli armamenti dei missili balistici biden ha dato a putin una lista di di obiettivi no touch in america se che se li avesse toccati con strumenti cibernetici avrebbero replicato ma su questo alberto scusa se se ti interrompo a me sembra roba ma che sfiora la comicità ma sicuramente entra nell'alveo della butad cioè gli attacchi cibernetici l'america li ha già subiti cioè ha avuto il maggior oleodotto che rifornisce la costa est degli stati uniti cioè una delle aree più ricche e popolose e ha dovuto pagare un riscatto alla fine e questo non è un attacco cibernetico a un'infrastruttura vitale gli avranno detto di non farlo più sì ma tu presidente degli stati uniti non vai a dire guarda non lo fare più perché se no ti do uno scappellotto reagisce basta una superpotenza non si comporta in questo modo patetico poi sedici obiettivi e allora tutti gli altri vanno bene cioè che cosa significa che se c'è un attacco russo ad amazon che magari non è compresa in quei sedici obiettivi il governo americano se ne lava le mani capisci che è un modo di presentare le cose tra il comico e il dilettantesco ci ho pensato anch'io di tutti gli altri 16 quindi sono sono contendibili e poi quali sarebbero questi sì perché non ce li raccontano cioè gli aeroporti no immagino le installazioni militari vorrei sperare l'acquedotto di new york va bene oppure no tutte le utilities non si devono toccare incluse magari le centrali lucleari e il resto che ne so i server di sisco sono sono selvaggina per gli hacker russi cioè capisci che il solo menzionare che se fa il cattivo su 16 non meglio precisati obiettivi l'america farà fuoco e fiamme è una dimostrazione di debolezza immagino che al diciamo le le unità del kagebe del fast come si si sono messi a ridere a leggere una cosa del genere tra l'altro uno degli oggetti più urtica uno degli eventi più urticanti per i democratici a loro dire cioè quello su cui hanno fatto un diciamo una una un fuoco di fila per anni è stato la violazione delle mail di lari clinton durante la campagna elettorale ti ricordi sto fatto e quindi non vogliamo manco parlare di cambridge analitica delle delle intrusioni nelle campagne elettorali dei paesi occidentali e forse anche dell'america ma i democratici e l'amministrazione obama di cui biden era vicepresidente quindi non un un personaggio secondario hanno battuto la gran cassa dell'indignazione su questo hacking delle dei server email di lari clinton e adesso lui che ha occasione di mettere punti di fronte alle responsabilità non ne ha neanche parlato di fatto l'altra cosa insomma il il motivo di questa di questo atteggiamento morbido a mio avviso è il fatto che biden cerca di arruolare putin in funzione anti cinese cioè di fare l'inverso di ciò che fece nixon con la diplomazia del ping pong in cui arruolò la cina maoista di allora in funzione anti sovietica adesso vorrebbe trascinare putin nella crociata nella nouvelle vague di confronto con la cina tu come come la vedi questa cosa l'idea l'idea che prima o poi la cina e la russia entreranno in rotta di collisione relativamente all'ase centrale alle repubbliche sovietiche soprattutto e che le due politiche non siano compatibili per esempio sull'india non sono compatibili perché la cina è mica dell'india invece i rapporti india cina sono pessimi il vietà non sono sono antitetici quindi l'idea che che le due le due strategie siano siano destinate a a collidere in in futuro è abbastanza radicata nei circoli americani il problema è capire quando ma non c'è dubbio che c'è c'è una forte corrente sono sicuro che mai ne fa parte che dice non abbandoniamo putti nelle mani di ghi cerchiamo di mantenere un rapporto fin tanto che possiamo naturalmente putti ha sempre bisogno di rendersi di rendersi rilevante altrimenti lui scenderebbe nelle rilevanza per cui ha bisogno di fare gli attacchi cibernetici ha bisogno di far volare gli aerei sulla svezia ha bisogno di mandare i sottomarini nel baltico sempre per far presente che lui c'è e ha sempre bisogno di dar fastidio perché è una forma di harassment per in modo che uno gli va dietro e gli offre sempre qualcosa altrimenti lui scenderebbe nella rilevanza in europa in europa dell'ovest in occidente però con la cina ci sono dei rapporti economici che si rinsaldano perché stanno costruendo i gasdotti che portano il gas dalla siberia alla cina gas di cui la cina ha disperato bisogno e poi fanno anche transazioni nelle loro monete hanno un sistema di compensazione dell'import export che praticamente taglia fuori il dollaro quindi in qualche modo si sono ritagliati un'area di cooperazione non banale si vedono diverse volte all'anno da quando sono al potere si sono visti moltissime volte il rapporto è più che stretto e non sono mai emersi screzzi io non so dove siano queste io credo che sia in asia centrale se ci siano i semi del loro potenziale disaccordo un domani ma la cina sta costruendo queste linee di comunicazione ferroviarie attraverso l'asia centrale alla fine della giornata si ha un'influenza aumenta un po l'influenza su questi su queste repubbliche ex sovietiche però in fin dei conti fa un favore anche alla russia perché apre degli spazi economici che al momento sono piuttosto aridi la russia vorrebbe che la cina passasse dalla russia con i raccordi ferroviari e che finanziasse nel nel fare l'improvement nel sistema ferroviario russo ma su quello magari qualcosa la cina concede non mi meraviglierei se decidesse di dare qualche miliardo di dollari per l'upgrade della transiberiana una roba che va avanti da molto tempo irrita molto i dirigenti russi questa non disponibilità cinese a investire nelle ferrovie russe che posso ben condividere beh perché sa le ferrovie possono portare merci ma possono portare pure eserciti quindi la prudenza cinese non è poi così campata in aria ma per tornare al discorso di biden degli occidentali e dell'atteggiamento da tenere nei confronti di putin nel vertice di ginevra biden ha toccato i punti che stanno a cuore parecchio anche a noi italiani la libia e la siria in secondo ordine lì putin veramente con due soldi e poche migliaia di mercenari è riuscito ad assurgere ad un ruolo di primo piano sì ma adesso ha bisogno dei capitali internazionali per ricostruire sì ma io non so fin quanto interessi a putin di ricostruire la siria lui ha la base nel mediterraneo e sempre di quello la tiene lì come un campo profughi sì non sarebbe la prima volta noi il governo italiano invece ha chiesto a biden di aiutare gli interessi italiani in libia è un modo un po vigliacco di gestire la faccenda perché gli americani dicono ma scusate voi non volete metterci eh i militari eh sul fronte libico ve ne siete lavati praticamente le mani adesso vorreste che noi facessimo il lavoro sporco per voi e poi vi eh graziosamente vi eh riportassimo le concessioni petrolifere così che leni mantenga il suo eh ruolo predominante eh in libia io non so quanto siano felici gli americani cioè quanto si possa eh immaginare che si prestino a questo disegno a questo disegno del governo italiano ecco no oltre a dire vai avanti che ti sosteniamo pochissimo in prima persona perché la politica americana in questo momento sembra essere la Cina la Cina la Cina la Cina la Cina ancora però gli europei hanno chiesto che l'impegno diciamo sul teatro europeo e sul mediterraneo eh venga rafforzato Biden ha detto di sì eh Macron ecco è un altro che fa il pesce in barile ha detto sì sì la Nato è molto importante sì sì eh la solidarietà occidentale e tutto il resto però non ci si può chiedere di abbandonare o in qualche modo congelare i rapporti con Cina e Russia noi facciamo i nostri interessi poi quando ci sarà una crisi di un qualche tipo mh sarà bisogno di un intervento militare e valuteremo cioè un atteggiamento abbastanza gollista no? Di 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 chi vuole tenere il piede in due scarpe l'unico devo dire che è stato proprio molto deciso sulla posizione atlantista è stato Mario Draghi di tutti i leader è stato quello che ha fatto un po' la figura migliore nel sia nel G7 sia in questo summit della Nato e su questo apro una piccola parentesi perché ma voi vi ricordate la storia della von der Leyen la von der Leyen che eh viene umiliata da Erdogan non viene fatta sedere viene tenuta in piedi e tutto il fiume l'inchiostro di sdegno eccetera eccetera o al vertice della Nato Macron la Merkel Sanchez tutti quanti sono andati a fare sala melic a Erdogan lo hanno incontrato hanno fatto la stretta di mano di quella faccenda nessuno gli ha chiesto conto l'unico che non ha incontrato il dittatore come lo ha chiamato è stato Mario Draghi che ha dato un'altra lezione a questi eh supposti eh granduomini dell'Unione Europea che quando c'è da indignarsi aprono la bocca quando c'è da fare i fatti poi vanno a sedersi eh e a scodinzolare al tavolo del dittatore questo è è stato uno spettacolo poco edificante anzi abbastanza disgustoso dal mio modesto punto di vista se l'avessero lasciato isolato avrebbe stato un gesto diplomaticamente molto forte tra l'altro Macron con Erdogan eh ha avuto uno scontro quasi militare per eh nel leggeo orientale e quindi avrebbe avuto tutti i motivi per non concedere questa legittimazione al dittatore e invece fa sempre il furbacchiotto da quattro soldi ma è stata una delusione quell'uomo comunque senti no l'ultima l'ultima questione sul diciamo per tornare al al summit Biden-Putin insomma quando è che e anzi la domanda dovrebbe essere formulata un po' meglio quali sarebbero gli elementi che secondo te dobbiamo tenere sott'occhio per capire dove va l'umore di Putin se verso la Cina o verso la strategia di contenimento americana no a vedere se ci sono degli attacchi cibernetici a breve oppure no quando sarà il prossimo tu dici che quella la cartina al tornasole io sull'Ucraina non mi aspetto niente a breve sugli accordi di Minsk che vengono implementati io non vabbè che non ci capisco niente ma mi aspetto relativamente poco invece siccome c'è un attacco cibernetico quasi al mese se passano sei mesi che non ce ne sono dice un gesto di buona volontà ma siamo arrivati al punto che hai capito cioè io non lo so è una potenza criminale Fabio è una potenza criminale ho capito ma se gli Stati Uniti non sono in grado di reagire ad attacchi cibernetici essendo una superpotenza tecnologica cioè viva Dio sono in grado ma rispetto a quei quattro fasciati che sono i russi cosa vuoi che gli facciano cosa vuoi che ci voglia bloccare un acquedotto russo perciò dico non andare là offline a chiudere i rubinetti offline un acquedetto russo probabilmente cioè faccio un paragone quando si è trattato di far saltare la centrale nucleare in Iran non la centrale nucleare chiedo scusa l'impianto di arricchimento dell'uranio sono riusciti a mettere un virus poi magari con la corroborazione degli israeliani ma ad ogni modo hanno messo un virus dentro un computer che non era nemmeno collegato in rete e gli hanno mandato a carte 48 tutto il processo diciamo 2-3 anni di lavoro sull'arricchimento dell'uranio questo era in Iran una roba del genere è talmente difficile farlo come ritorsione per gli attacchi cibernetici a qualche installazione russa? no secondo me è facilissimo solo che non vale la pena farlo perché loro rispondono finché non l'hanno fatta più grosso non finiscono mai io credo che sia arrivato il momento di dare una lezione cibernetici hai capito? ti tocca tollerare questi gesti di provocazione da parte di Putin per lui sono necessari per dire esisto e sono importanti e devi venire a incontrare sono a forma di ricatto sì ma capito? tu dai a un bandito sostanzialmente un ruolo planetario che lui paga con poche migliaia di truppe senza manco le uniformi e quattro scalzacani di hacker e poi Biden comincia tira fuori la faccenda di Navalny ah se muore in galera è una cosa gravissima ma Navalny non deve stare in galera numero uno ma Fabio ma questo è un errore dell'Occidente ma noi che cosa gliene frega allora non lo dici allora fai zitto lo sai che è un dittatore assoluto cosa gli vai a fare a rompere i coglioni in casa dicendo che deve avere una minoranza e deve avere un pluralismo democratico in Russia non stiamo a incantare ma appunto se vuoi fare realpolitik allora falla la realpolitik ma quello di dire ah guarda eh che se Navalny lo ammazzi noi ci arrabbiamo cioè è veramente un atteggiamento che umilia l'Occidente io così la vedo tieni presente che a Monti ci sono le stanzioni che però l'Occidente ha messo sulla Russia che impediscono la Russia di crescere sì sì ma poi queste sanzioni fanno male all'Europa perché insomma sono gli italiani le aziende italiane che ne hanno pagato le conseguenze l'America economicamente non ha subito alcuna lo stesso è nel confronto dell'Iran ah nell'Iran ancora peggio sì sì l'Iran è un altro caso in cui il costo delle sanzioni viene scaricato sugli europei che sono diciamo così i partner commerciali più importanti mentre l'America che non ha relazioni economiche non subisce conseguenze di alcun tipo più o meno con la Russia insomma mutatis mutandis è la stessa cosa allora cioè noi europei dobbiamo piegarci a questo balletto un po' ipocrita americano senza che poi effettivamente si ottengano risultati concreti non è non è particolarmente piacevole sì anche se il corso di militare chissà quanto più diventerebbe aggressivo Putin nei nostri confronti ma lui già lo è non è che si faccia scrupolo io non credo che lisciargli il pelo lo renda più mansueto anzi ma nei confronti dell'Ucraina eh nei confronti dell'Ucraina lui ha adesso il fronte diciamo è congelato perché gli europei pur con tutte le prudenze tutte le accortezze diplomatiche gli hanno bloccato la campagna militare e eh minacciano di accettare l'Ucraina nella Nato che per Putin sarebbe uno schiaffo a livello internazionale ma anche un'umiliazione interna diciamo nei confronti dei suoi del suo gruppo e dei concittadini dell'opinione pubblica se la vogliamo chiamare così va bene dai Alberto vedremo un po' se questo Biden fa seguire i fatti alle chiacchiere finora non mi sembra nel cortile di Putin valutare che cosa farà cosa non farà se vorrà andare verso una distensione o meno ma se mi fai scommettere lui ha avuto il suo riconoscimento quindi questo è il coronamento della sua tattica da bandito straccione quindi adesso lui si sente un po' investito del ruolo che fu dell'Unione Sovietica o quanto meno può vantarsi di questo con i suoi concittadini e per un po' starà buono poi non concederà nulla né sul caso Navalli né sulla Siria né sulla Libia né sull'Ucraina magari ecco gli attacchi cibernetici li metterà in sordina per un po' poi ricomincerà quando gli converrà io questo prevedo va bene Alberto ciao Fabio raccomandiamo di nuovo come facciamo sempre alla fine dei nostri video di mettere un like se vi piace di commentare e di diffonderlo sui social se ritenete che i vostri amici e follower possono avere un interesse su questi temi un saluto a tutti